Ciao ragazzuoli e bentornati sul mio canale, intanto buon inizio di fine settimana, oggi è venerdì quindi vi auguro di passare una grandissima fine di settimana e di godervi alla grande, un riposo e che ne so, magari condividiamo anche una gioia calcistica che non guasta domenica sera. Ma non è di questo che voglio parlarvi, voglio parlarvi delle parole di Aurelio De Laurentiis, parole molto forti su un suo progetto alternativo a questo calcio attuale, ha usato parole di critica esagerati, forti, pesanti, ma poi vi dirò in generale che cosa penso di quello che sta accadendo al mondo del calcio. Siamo un po' miopi, guardiamo magari spesso le cose da vicino, tutto ciò che ci riguarda, ma fino a un certo punto non riusciamo mai ad avere una visione di insieme, ma quel che sta accadendo nello scenario calcistico è un po' particolare. Quindi parliamo di questo, parliamo di De Laurentiis. Prima di iniziare ovviamente ragazzi vi invito di sostenere al massimo il canale, in che modo? Con il vostro commento, con il vostro like, se non vi piace anche il dislike è gradito lo stesso, un indicatore, per cui l'importante è lasciare di feedback al sottoscritto per migliorare, per confrontarci, mi raccomando. E poi se volete vi iscrivete, se siete interessati alle regomentazioni di questo canale, alle collaborazioni che porterò da qui in avanti, ai vari vlog dallo stadio, ecco, mi raccomando. Partiamo subito con De Laurentiis, allora io vi dico già una cosa dal principio, premetto che condivido alcune premesse che ha usato De Laurentiis e quelle cose le ho dette io tempo fa e da tanti sono stato in parte aggredito perché pensavo solamente al mio interesse, perché pensavo solamente invece io vedo il calcio da qui in avanti. Cioè io mi immagino, mi auguro di avere una vita lunga e vi auguro anche a voi di avere una vita lunga, ma il calcio europeo, il calcio mondiale da qui a dieci anni, come sarà? Sarà così stagnante o invece verrà riformato in maniera profonda? La piramide del calcio verrà toccata? In che modo bisognerà cercare di portare l'elite calcistica mondiale a emergere sempre, a sfidarsi sempre e a creare bellezza, gesti tecnici e altre mille cose? Queste sono le domande che mi pongo. Come sarà il calcio fra vent'anni? Una domanda che non si pone nessuno, ma è quella la visione che deve portare poi alle riforme da fare oggi, perché poi ci sarà un percorso che ti porta a quella cosa là. Però intanto devi lavorarci da oggi, altrimenti quando il cambiamento ti travolge, ciao, arrivederci e grazie, dobbiamo farci trovare pronti. Perché ormai il calcio, noi pensiamo al calcio italiano, ma ragazzi dobbiamo pensare al calcio come sistema di intrattenimento rispetto ad altre mille situazioni. Perché il calcio si scontra con l'NBA, si scontra con gli e-sports, si scontra con una marea di cose e ultimamente il calcio sta perdendo potenziali clienti, potenziali tifosi, affezionati che seguono appunto questo sport. In Italia non lo percepiamo sta cosa, ma noi ragazzi siamo il buco del cosiddetto rispetto a tutto il mondo. Cioè noi siamo 60 milioni, di cui una parte 24 milioni di appassionati, che è già tanta roba, siamo quasi vicini al 50%, ma gli altri stati che hanno delle popolazioni molto più grandi di noi, insomma la situazione lì è differente. Adesso andando a sommare tutti i valori, si sta sgretolando l'interesse per il calcio e questo è un problema. Cosa ha detto De Laurentiis? Su questo vi dico, l'avesse detto Andrea Agnelli l'avrebbe impiccato in piazza, i quotidiani, i giornali e noi avrebbero dato credito. La cosa che mi fa piacere è che le premesse che utilizza De Laurentiis in tutta la sua intervista sono le stesse che ha utilizzato Andrea Agnelli, Florentino Perez, Laporta, per presentare questo progetto della Superlega. Poi, ok il format, ma la discussione si è incentrata sul format ed è una cosa sbagliata, perché la discussione doveva fermarsi più che altro sulle riforme da fare, quali erano le problematiche. Abbiamo legato tutto solamente a una questione puramente economica, ma non è solo questo. I problemi sono anche altri. La sostenibilità del calcio sul medio e lungo periodo, ed è un problema sia economico, ma anche la bellezza del calcio da qui in avanti. Perché, come dice De Laurentiis, io credo che tante squadre siano totalmente disinteressate a giocare Conference League, Europa League, ed è fattuale. Tante spesso escono anzitempo per altri obiettivi, molto più remunerativi, molto più sostenibili per quella che la rosa. Si gioca troppo, dice De Laurentiis, bisognerebbe giocare meno. E poi è una stronzata che troppe partite uguali più soldi. In Premier League abbiamo l'esempio opposto, meno partite più soldi. Parliamo di campionato. Perché, vi faccio un esempio banale, non tutte le partite vengono date con i diritti TV. Bene, vengono date solamente una parte, tant'è vero che il valore della singola partita alza tanto economicamente. Ha un valore differente. E quindi ha parlato di tutte queste cose, lui vorrebbe un torneo particolare, ha tirato fuori un suo format, ma non mi concentro sul format, perché De Laurentiis conferma quella che è la crisi del calcio mondiale, crisi che venne già spiegata dai vari fondatori di questo progetto che è la Superlega. Poi la discussione sul format, ne possiamo parlare anch'io, ero poco convinto di un sistema senza retrocessione e promozioni. Molto poco convinto. Credo che debba essere comunque aperto, ma tu devi dare la possibilità all'elite europea di entrare e uscire. Perché se una società è brava e progetta sul medio-lungo periodo e ha la capacità di prendersi l'Europa per capacità, bravura dell'allenatore, bravura dei dirigenti che allestiscono una squadra, magari con pochi soldi e diventano dei fenomeni. Magari c'è un giunto lì della situazione che ne prende quattro Kvaraschelia, tre Osimen e quattro Kim, diventa una squadra fenomenale e se in tre o quattro anni inizia a inanellare una serie di successi, quella squadra ha tutto il diritto di poter giocare nell'elite europea. Io su questo aspetto mi sono trovato molto d'accordo. Però, ripeto, la discussione si è focalizzata sulla situazione sbagliata, perché poi il format può essere modificato con una discussione tra tutte le parti in causa e l'apertura da parte di chi ha creato la Superlega a un eventuale cambiamento di modalità del format. C'era! Non si è mai discusso dei veri problemi. Adesso De Laurentiis tira fuori tutte quelle che sono state le problematiche del calcio in generale. Però, ripeto, l'avesse detto Andrea Agnelli, apriti cielo. Beh, Andrea Agnelli è uno che guarda solamente al suo rotticello. Dovremmo dire la stessa cosa del buon De Laurentiis. Io credo che quando siano più persone a dire esattamente le stesse cose, significa che i problemi alla base ci sono. Nonostante ciò, vedo un problema, anche uno scontro all'orizzonte tra investitori, perché io vedo che gli USA fremono per un eventuale format simile alla Superlega, per investire quattrini, soldi, su squadre, sulla struttura del format stesso, su DTTV, eccetera. Dall'altra parte, invece, lato UEFA, vedo che invece ci sia più un interesse del catariota arabo ad investire su quel format là. Tant'è vero che lo stesso presidente dell'ECAL, che è la IFI, ha delle quote importanti legate a Bainsports, che ha in questo momento i diritti TV della Champions League. De Laurentiis ha anche accusato il fatto che l'UEFA si tenga 800 milioni e non si sa dove vadano a finire questi 800 milioni. I club, insomma, mettono a rischio il proprio investimento in che modo? Comprano i giocatori, rischiano che quei giocatori, a furia di giocare così tanto, vadano a infortunarsi, si rischia la minusvalenza, perde valore quel giocatore e il danno è tutto sulle spalle dei club. Quindi è normale che in questo momento i club vogliano comandare il gioco, perché io sulle spalle ho tutti i rischi, ma non posso gestire i guadagni, né posso creare delle basi per poter creare dei progetti nuovi e delle soluzioni nuove da qui in avanti. Quindi nella governance, praticamente, De Laurentiis dice vuoi entrarci io come club senza l'intermediario di mezzo che l'UEFA? Questo dice, e addirittura dice UEFA, Lega Calcio, eccetera, sono tutti sistemi vecchi, bisognerebbe abolirli. Il fatto è che non va neanche qua al centro della situazione, qual è la soluzione alternativa? Beh, insomma, comunque lui le bordate le ha lanciate. Il fatto è che De Laurentiis mi pare uno che parli a mezzo stampa, poi quando c'è da mettersi in prima persona, sbattersi in prima persona per poter risolvere i problemi, non lo si vede mai. E mi farebbe piacere, perché non è una persona stupida, è un grande imprenditore, secondo me, che sicuramente darebbe una grossa mano, potrebbe portare la sua esperienza, è uno che conosce il valore del denaro, è uno che sa generare denaro, per cui, ripeto, io ho grande rispetto di De Laurentiis come imprenditore, meno spesso come comunicatore, ma in questo caso ne condivido comunque le premesse di questo suo atto d'accusa. Quindi, piena condivisione. Detto ciò, detto ciò, c'è da capire. Ripeto, allo sfondo vedo uno scontro tra forze economiche, USA contro Arabi, UEFA contro i club che vogliono prendere in mano tutto, cioè è la lotta all'interno della lotta, veramente. Addirittura vedo uno scontro tra leghe e federazioni, perché le federazioni stanno con l'UEFA, ma le leghe stanno iniziando ad ammiccare anche per la Superlega. Tant'è vero che il presidente della Lega a calcio italiana mica ha detto che schifo la Superlega. No, probabilmente serve un cambiamento in tal senso. Ha criticato il format, ma le basi su cui poi si è creata questa idea, non le ha mica criticate, anzi le ha sottolineate esattamente come ha fatto De Laurentiis. Per cui io credo che a breve ci saranno tanti scossoni all'interno del calcio e il calcio che conosciamo oggi, domani, rischia di essere potentemente modificato da questa guerra, da questa guerra politica, possiamo chiamarla così, e di interesse, può nascere sicuramente qualcosa di interessante. Ora ragazzi, non mi soffermo più di tanto, io ho commentato le parole di De Laurentiis, vi ho dato delle mie impressioni su quel che si vede, cioè l'ECA, l'UEFA, gli arabi, le federazioni, dall'altra parte vedo Lega Calcio, gli Stati Uniti, la Superlega come grande alternativa, e i club che vogliono, vogliono i joypad in mano del gioco, e non vogliono essere intermediati da altri organi come in questo caso l'UEFA. Ve l'ho fatta molto breve da bar, giusto per farvi capire esattamente il mio pensiero, senza entrare troppo nel tecnico, nello specifico, anche perché se entriamo nel tecnico, nello specifico, e nel dettagliato, servirebbero dei video da 2-3 ore, e servirebbe più che altro anche l'ausilio di altre professionalità, che in questo momento non dispongo. Però probabilmente, quando usciranno delle novità, vi porterò ovviamente delle collaborazioni, con gente che mastica la materia, e che saprà darvi degli spunti tecnici interessanti, questo è importante. Detto ciò, vediamo che cosa succederà. Fatto sta, che le problematiche che accusò Agnelli, anni addietro, in questo momento, sono più acutizzate, e tanti si stanno accorgendo di quella visione, di quell'idea, che forse tutta sbagliata, non era. Guerra di poltrone anche adesso, però. Aspetto le vostre opinioni sotto nei commenti, iscrivetevi ovviamente al canale, se avete gradito la cosa, e vi interesserà poi approfondire la questione, e vi mando un forte abbraccio, grande, e ci vediamo più tardi, magari per un altro video, un qualcosa di particolare, magari anche una collaborazione, mi piacerebbe, perché no? E sempre fino alla fine, Forza Juve! Forza Juve!